Al via il primo festival pianistico città di Arezzo in memoria di Arturo Benedetti Michelangeli al Teatro Petrarca. C'è una passione, una predilezione nell'ambito delle politiche musicali di privilegiare o comunque mettere avanti agli altri i concerti di pianoforte. Questo perché la nostra città è indissolubilmente legata al nome di Arturo Benedetti Michelangeli che negli anni 50 e 60 istituì ad Arezzo una scuola di perfezionamento per maestri di pianoforte. E lui ci ha lasciato il suo bellissimo Stenue Gran Coda che sarà utilizzato per i concerti che abbiamo organizzato insieme all'Associazione Opera Viva. All'interno della stagione concertistica del comune di Arezzo il primo appuntamento del 19 novembre prevede la presenza del maestro Leslie Howard, uno dei pianisti entrati nella leggenda. È un pianista australiano, doppia cittadinanza britannica che è l'unico pianista al mondo a aver completato l'incisione completa delle opere di Franz Liszt. E infatti ad Arezzo al Petrarca eseguirà musica di Beethoven e Liszt. E poi altri tre pianisti che proseguiranno fino a febbraio con maestro Roberto Plano, Gianluca Luisi e Maurizio Baglini. Tre pianisti italiani che portano con onore il pianismo italiano nel mondo. Basti pensare, Roberto Plano è docente presso la Boston University. Maestro Baglini incide in esclusiva per la DECA, quindi sono artisti veramente di primo livello.